Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa fatemi salutare e ringraziare Giacomo e Mark, due nuovi abbonati alle mie video lezioni. Sì, perché sul canale trovate una playlist dedicata agli abbonati con più di 19 ore di video lezioni, alle quali potete accedere fin dal primo mese di abbonamento con solo 2,99€. Ieri pomeriggio è iniziata la fase finale del campionato del mondo Fisher Random, la variante degli scacchi inventata da Bobby Fisher. E come mai ha inventato questa variante? Per eludere la teoria delle aperture e mettere in campo il solo talento. Come vedete, la posizione iniziale dei pezzi non è quella classica, ci sono infatti 960 possibili e diverse posizioni iniziali. 8 giocatori si sfidano in due gironi all'italiana da 4 giocatori e solo i primi due di ogni girone passano alle semifinali e all'eliminazione diretta. Si giocano partite rapide da 25 minuti in un girone a doppio turno e quindi come funziona? Ogni match giornaliero tra due giocatori è composto da due partite dove entrambi si affrontano partendo dalla stessa posizione una volta di bianco ed una di nero. Ma poi il giorno successivo si incontrano di nuovo partendo da una posizione iniziale differente. Rimanete fino in fondo perché vi farò vedere la classifica dopo la prima giornata. Tra questi 8 giocatori gli occhi puntati sono su Wesley So, attuale campione del mondo, che aveva vinto il titolo distruggendo Magnus Carlsen, e Carlsen stesso che pensiamo voglia conquistare anche questo titolo. Stiamo per guardare insieme le loro partite rispettivamente contro Gretarsson e Fedosev. Non dimenticate di Dike, partiamo. Quindi siamo alla prima partita. Wesley So di bianco contro Iovar Gretarsson, giocatore, grande maestro islandese. Wesley So di bianco apre con D4, quindi come negli scacchi classici si cerca di conquistare il centro. Il nero risponde con D5, cavallo in C3 attacca il pedone e il nero lo difende con C6. E4 arriva, che cosa fa? Attacca il centro e libera la donna. Ora ricordatevi sempre, in questo Fischer Random la liberazione della donna il prima possibile è sicuramente cosa buona. E pensate, dopo tre mosse siamo già ad un momento importante di questa fase dell'apertura, perché il computer al nero suggerisce di giocare E6 e quindi di chiudere il triangolo. E invece Gretarsson cattura in E4, il cavallo ricattura, attenzione al tatticismo, donna in E2, poi il salto del cavallo che dà uno scacco che scompone totalmente la posizione del nero. Il nero gioca al fiere in B6, come dicevamo, donna in E2 lasciando stare il pedone, è una mossa fortissima. Wesley So difende il pedone con C3, cavallo in D7 e Wesley So la trova, donna in E2. Attenzione al salto del cavallo in D6 con scacco, perché dopo il salto del cavallo, vedete, il pedone rimane inchiodato. E allora al fiere in C7 a proteggere proprio la casa D6. Arrocco corto per il bianco, perché quando è che si può giocare l'arrocco nel Fischer Random? Si può giocare quando nessun pezzo interferisce tra re e torre, poi re e torre, se si arrocca corto prendono la solita posizione, se si arrocca lungo ugualmente prendono la solita posizione. Degli scacchi classici. Naturalmente non si può arroccare quando si è sotto scacco e con tutte le altre regole, quindi quando un pezzo sta controllando una casa dalle quali deve passare il re. Quindi insomma, solite regole classiche. Allora cosa fa il nero? Cavallo in F6, Wesley Soh sviluppa il cavallo in H in G3, arriva a H5 con l'idea probabilmente di spingere anche in H4. Cavallo per cavallo in F6 con scacco, pedone inchiodato, bisogna riprendere con il pedone G. E Wesley Soh vince un pedone. Attenzione, solito discorso. Questo pedone sotto attacco si può catturare? Allora il re è costretto a spostarsi in D8 per schiodare il pedone. Alfiere in F4, cavallo in G6. Attenzione, l'alfiere due volte sotto attacco. Allora, alfiere per alfiere con scacco. Il re ricattura, donna in E3. Guardate come la donna prende il posto dell'alfiere camposcuro, minaccia anche di nuovo di attaccare il re. Allora, alfiere in E6, cosa fa? Libera la torre, oltre a sviluppare il pezzo. Praticamente, che cosa vuol fare Greterson? Probabilmente vuole spostare la torre e nascondere il re sul lato di donna. Allora arriva alfiere in B3. Alfiere per alfiere. Il pedone ricattura. Ma attenzione perché si è aperta la colonna H. Allora, torre in H8 attacca il cavallo. Wesley Soh gioca l'intermedia allo scacco. Donna in G3 con scacco. Cosa vuol fare praticamente? Ora il re si deve spostare in D7. A questo punto Wesley Soh riporterà il cavallo verso il centro. In caso di cambio, è la donna che ricattura e rimane sempre centralizzata e particolarmente attiva. E invece, il nero non gioca re in D7. Gioca re in D6, che è un gravissimo errore. Wesley Soh ci pensa e trova una mossa micidiale. Gioca C4 lasciando il cavallo in presa. Che succede adesso se il nero cattura il cavallo? Guardate che finale spettacolare. Se torre per cavallo in H5, non giocata dal nero in questa partita, arriva C5 con scacco, che oltretutto chiude le possibilità difensive della torre. E ora che si fa? Se re in B5, donna in D3 con scacco, re in B4, torre in A4, scacco matto. E allora, dopo C5, il nero è costretto a catturare di torre. Torre che cattura in C5, D per C5 con scacco. Re che cattura in C5, donna in C7. Micidiale, la donna alle spalle, gli chiude tutte le vie di fuga. E qui ci sono due torri con colonne aperte. Donna in D8 cerca il donna per donna, ma torre in F che va in C1 con scacco. Che succede? Se il re si sposta sulla colonna D, l'infilata di torre vince la donna. E allora il re dovrà portarsi in B5, torre in A5 con scacco, re in B4, torre in C4 con scacco, re cattura in minaccia la torre, ma arriva donna in G3 con scacco. E attenzione, la torre è intoccabile, perché se il re cattura la torre, donna in C3 è già scacco matto. E allora il povero re deve continuare a muoversi. Re che cattura in B2, donna in C3 con scacco, re in B1, torre in A1, scacco matto. Quindi micidiale questa C4 di Wesley Soh, cavallo intoccabile, cosa fa Greterson? Gioca A6, cerca di aprire una via di fuga a questo re. E allora Wesley Soh continua, C5 con scacco, re in A7 e siamo arrivati al nostro quizone. Qual è secondo voi la continuazione che fa immediatamente abbandonare il nero? Mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi, perché Wesley Soh gioca l'amicidiale torre che cattura in A6 con scacco. Ho sbagliato la freccia, perché questa veramente è stata giocata. E qui che succede? Succede che Greterson saluta e abbandona. Come mai? Perché qui che cosa si deve fare? E qui, se il pedone B cattura, donna in C7 direttamente scacco matto. E se invece è il re che cattura, arriva torre in A1 con scacco, re in B5, donna in D3 con scacco, re in B4, donna in C4, scacco matto. Ma ritorniamo per un attimo al momento del quizone, perché c'era anche un'altra soluzione ugualmente forzante, ugualmente interessantissima. Ritorniamo al momento del quizone, perché anche donna in C7 è sicuramente vincente, c'è già il matto forzato. E qui che succede? Donna in D8, di nuovo torre per pedone con scacco, il pedone è inchiodato, e allora sarà il re che deve catturare in A6, torre in A1 con scacco, re in B5, donna che cattura in B7 con scacco. E qui l'unica mossa possibile è interporre la donna, ma la cattura di donna, protetta dal pedone, dà lo scacco matto da B6. Quindi grande vittoria di Wesley So, che è un giocatore talentuoso, fortissimo. Passiamo adesso a vedere come si è comportato Magnus Karzen. Eccoci arrivati, Magnus Karzen di bianco contro il fortissimo Fedosev con i pezzi neri. Anche Karzen apre la partita con D4, guardate di nero come risponde, C5, sacrificio di pedone, avrà studiato qualcosa per guadagnare tempi in apertura. Ma Carletto il pedone non lo accetta, lo avanza in D5 e arriva anche E6. Cavallo in C3, che sviluppa e protegge, è sicuramente buona. Altra buona mossa, quella giocata da Karzen, E4. E allora Fedosev sviluppa questa donna in D6, che guardate che cosa fa. Sembra forte, perché un secondo attacco sul pedone centrale guarda anche il pedone in H2, ma la donna stava molto meglio in E7, sulla colonna del re bianco. E allora Karzen sviluppa il cavallo in C3 e Fedosev continua con cavallo in G6. Come mai non ha catturato in H2? Ritorniamo indietro. Perché se il nero cattura con la donna in H2, il cavallo si sposta e guardate la donna deve scappare subito, oppure minaccia di rimanere intrappolata. Allora donna in H4, torre in H1, la donna tornerà indietro in E7. Torre che cattura in H7, il bianco con tre pezzi sviluppati, ha già un vantaggio decisivo. E allora ritorniamo a noi, ha fatto bene, Fedosev va a non farsi in golosire, ha giocato cavallo in G6 e Karzen spinge in F4. Converrebbe sicuramente arroccare, il nero gioca al fiare in A5 che inchioda il cavallo sul re, donna in F2 prepara l'arrocco, Fedosev alla fine cattura in D5 e Karzen arrocca corto. Arriva D4 che attacca il cavallo, ma prima di spostarlo arriva l'intermedia e 5 che attacca la donna. La donna si porta in E7, buona anche il cavallo in D5 e invece cavallo in E4, comunque posizione più che rispettabile per l'equino al centro. Allora, arrocco lungo per il nero, cavallo in H che va in G3, alfiere in C7. Attenzione, cosa vuol fare questa mossa? Ora è chiaro che da come ha impostato la partita Karzen vorrà attaccare direttamente il re nero. Allora in qualche modo questo alfiere in C7 rende più difficile questa spinta F5. Allora Karzen gioca cavallo in F5 che attacca la donna, la donna torna indietro in D8 e il cavallo salta in D6. Qui si sta per giocare F5. Allora alfiere per cavallo è il cavallo che ricattura e qui il problema del nero è mettere in gioco i pezzi sull'ala di donna. Quindi cavallo in C6, alfiere in E2, è bella mossa di sviluppo perché ci vuole anche pazienza, e Fedosev gioca F6. Attenzione perché se si apre la colonna la torre minaccia la donna. Allora Karzen la sposta in G3. Che succede se si cattura? Dopo F per E5, non giocata in partita, il bianco può spingere in F5, il cavallo non può tornare indietro perché se il cavallo torna indietro arriva alfiere in H6, allora il cavallo deve chiudere, si deve spostare naturalmente, ma deve chiudere la diagonale dell'alfiere. Alfiere in C4 con scacco, Re buttato nell'angolo, alfiere per cavallo, il pedone e ricattura, la torre cattura, ci sono troppe minacce, la centralizzazione della seconda torre e la spinta in F6 con il nero che sta giocando, con due pezzi in meno, troppo forti le minacce di Karzen in questa posizione. E allora per questo motivo Fedosev non apre nulla, gioca donna in E7, alfiere in C4 con scacco, Re in H8, torre in F3. Pensate, questa mossa sta preparando un sacrificio di donna spaziale. Ve lo faccio vedere, giochiamo una mossa neutra, se il nero gioca B6, magari per sviluppare l'alfiere, arriva donna per cavallo e la donna non può essere catturata, perché dopo H per G6, torre in H3, è direttamente scacco matto. Quindi una mossa che vincerebbe un pezzo. Ritorniamo a noi, ma Fedosev se ne accorge e che cosa fa? Gioca B5, quindi in caso di donna per cavallo lui si vuole rifare sull'alfiere e noi siamo arrivati al quizzone di questa partita, dove secondo me potete migliorare quello che Karzen ha giocato in partita. Mettete pure in pausa e da voi la parola. Ritorniamo a noi con la soluzione del quizzone. Donna per cavallo rimane l'idea migliore. Guardate che cosa succede. Dopo donna per cavallo, e qui naturalmente non si può catturare, se no si figlia matto, e pedone per alfiere, torre in H3 minaccia matto, perché adesso il pedone non può catturare la donna, è inchiodato sul re, e allora bisogna giocare H6, cavallo in F5 attacca la donna, donna in F7, donna in G3, e il sacrificio del cavallo sul pedone è sicuramente micidiale. D6, una delle mosse considerate migliori, come mai? Perché qui bisogna eliminare la torre, ma per non prendere matto, cavallo che cattura in H6, con il micidiale scacco di scoperta, e allora bisogna cedere la donna per la torre, alfiere per torre, cavallo che cattura la donna in F7 con scacco, torre cattura, donna che cattura in H3 con scacco, e per il bianco c'è vantaggio decisivo. Ritorniamo a noi, dopo B5 che cosa fa Carlsen? Sposta l'alfiere in D5, quindi inchioda il cavallo sulla torre, rimangano le solite minacce, e allora F per E5, donna per cavallo, torre in F6 attacca la donna, donna in E8 con scacco, guardate, forza il cambio donne, e allora donna per donna, il cavallo ricattura con tempo perché attacca la torre, però, attenzione perché Carlsen è rimasto col cavallo di vantaggio, con un pezzo di vantaggio, lui addirittura ha la coppia degli alfieri, e ora la mossa più naturale sarebbe tornare indietro di torre, ma Fedosev deve provare il tutto per tutto, e allora spinge in E4, cavallo per torre in F6, pedone che cattura la torre in F3, il cavallo si salva portandosi in E4, attacca il pedone, pedone che avanza in C4. Il controgioco del nero è sul lato di donna, allora Carlsen mette in gioco anche l'ultimo pezzo, alfiere in D2, torre in B8 per supportare le spinte dei pedoni, ma guardate la mossa di Carlsen, torre in E1, Fedosev sotto di un pezzo, con il re nell'angolo e l'ottava traversa, difficilmente difendibile, giustamente abbandona. Guardiamo una possibile idea, adesso se il nero continua con l'alfiere in B7, per controllare, questa casa è 8, cavallo in D6 attacca l'alfiere, alfiere in A6 non è giocabile, e quindi si andava sicuramente ai cambi, dopo alfiere in A6, cavallo in F7 con scacco, re in G8, il cavallo può anche andare in presa, cavallo in D8 con scacco, e guardate che succede, scacco di scoperta, e qui si vuol dare il matto, allora il re si deve spostare in F8, cavallo per cavallo, il pedone di ricattura, e ma non ci dobbiamo scordare della forza della coppia degli alfieri, e del fatto che il bianco ha il pezzo di vantaggio, alfiere in B4 con scacco, il re non si può muovere, mossa unica C5, ma la cattura di alfiere darebbe uno scacco matto spettacolare. Un'altra bellissima partita quindi, vi faccio vedere la classifica dei due gironi dopo la prima giornata, e questo Fisher Random è veramente un formato spettacolare, che spero apprezzerete sempre di più. Vi ringrazio tantissimo per tutte le nuove iscrizioni, e mi raccomando continuate a iscrivermi per aiutarmi a far crescere il canale, grazie di nuovo per la visione, e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!